Amore mio, sai dov'è il mio telefono? No, caro, mi dispiace. Non importa. Puoi chiamare il mio numero? Per trovare il mio cellulare? Certo. Qual è il tuo numero? Il mio numero è? Aspetta. Non sai ancora il mio numero? Neanche tu conosci il mio. Allora sai quando è il mio compleanno? E' il nostro anniversario? Lo so, ma ora non lo ricordo. Incredibile! Allora sai qual è la mia squadra preferita? La tua squadra preferita è l'Inter. Non sai niente di me. Non è vero. Acquistiamo un'agenda. Per scrivere tutto di noi. Allora sai say molto bene. Grazie.